Buonasera, il telegiornale parte, ed è inevitabile che sia così, dalla grave vicenda che è accaduta nella notte sopra il Palazzo del Potere per eccellenza della Russia, il Cremlino di Mosca. Un drone è esploso, è andato a colpire la cupola, non si capisce. Sicuramente le immagini fanno vedere che qualcosa è successo. La denuncia che arriva dalle fonti ufficiali russi è che si sia ordito un attacco, un attentato contro lo stesso Putin. Potete immaginare l'importanza e la gravità di questa accusa. Un drone poteva colpire, poteva dall'alto, dal cielo, riuscire a centrare là dove in qualche parte del palazzo di Mosca si trovava il leader, il presidente della federazione russa. È difficile capire se la denuncia sia compiutamente attendibile e ovviamente corredata da un indiretto e implicito atto di accusa nei confronti dell'Ucraina. E Kiev però dice che non abbiamo nulla a che fare, non compiamo atti ostili in territorio russo, non compiamo azioni aggressive nei confronti di altri paesi. Ma chi può essere stato? Si parla di false flag, come si dice in questi casi, di un'azione che in realtà vuole essere solo una messa in scena. Si parla anche di, chiamiamolo così, avversari di una sorta di resistenza, tra molte virgolette, russa contro Putin. Oppure c'è davvero la possibilità che esista una quinta colonna, che esistano delle azioni di ucraini in terra russa. Quel che è certo appunto è che quel drone è esploso senza fare vittime, a quanto dicono appunto le stesse fonti ufficiali russe. Ma è chiaro che si tratta di un episodio su cui occorrerà fare chiarezza e che fra l'altro ovviamente porta nuovi inquietanti interrogativi su quello che potrà succedere nei prossimi giorni. Si sa che a livello nazionale invece la questione più importante è quella dell'ondata di maltempo che ha colpito durissimamente soprattutto una regione, l'Emilia Romagna, le zone tra Bologna, Faenza e Ravenna. Sono state le più colpite con interruzioni, allagamenti, nubi fragili, rischio di frane, le linee ferroviarie completamente interrotte, alcune vittime. È una situazione che tutt'altro è che è sotto controllo come vedremo. Ma del resto in generale c'è un allarme forte, non il generico allarme e clima che lanciamo e ascoltiamo da anni. Quest'oggi arriva dal capo dell'organizzazione dell'ONU sul clima un allarme ben chiaro e mirato perché quest'anno ci sarà ancora il fenomeno del nigno che si propaga dal centro dell'oceano pacifico e fa riscaldare le acque ma anche poi anche le correnti del pianeta attorno al globo e fa surriscaldare le temperature e sarà, secondo quanto appunto dice il capo degli esperti dell'ONU, sarà un'estate caldissima, la più calda forse di sempre. Ma vedremo anche altri fatti. A Belgrado, Serbia, è successo quel che ogni tanto raccontiamo dagli Stati Uniti ed è però la prima volta che succede in questa zona del mondo. Un ragazzo, 13 anni, entra a scuola con un'arma del padre e mira alcuni compagni, ne uccide otto oltre a una guardia giurata, ne ferisce altri. Non si capisce, si parla del fatto che fosse bullizzato, però è ovvio, stiamo parlando di un 13enne che uccide otto compagni di scuola, tanto per poi essere catturato. Ma ci sono molti altri fatti, come vedremo, ci sono altre notizie. C'è la Corte Costituzionale francese che respinge la richiesta di referendum sulla riforma delle pensioni di Macron e poi c'è un lutto nel cinema, la morte del regista Dalatri. Tutto questo, 30 secondi o poco più e poi i titoli. sia la resistenza russa anti Putin, ma per Medvedev, vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo, non ci sono altre opzioni se non l'eliminazione di Zelensky. La pioggia violenta caduta ieri per tutta la notte ha provocato esondazioni, frane, smottamenti in Emilia Romagna, i danni più pesanti nelle province di Bologna e Ravenna. Tragico per ora il bilancio che può però peggiorare. Ci sono almeno due morti e ci sono anche state evacuate centinaia e centinaia di persone, bloccate le ferrovie e alcune strade. Il governatore Bonacini ha chiesto lo stato di emergenza, disposta la chiusura delle scuole. E sono previste temperature record nei prossimi mesi, potrebbe essere l'estate più calda di sempre. Non è una nostra osservazione o constatazione. È l'allarme che viene lanciato dal capo dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale dell'ONU. Secondo gli esperti, infatti la causa si lega al Nigno, il fenomeno climatico ben noto che ogni qualche anno riscalda le acque del Pacifico e causa siccità, ondate di calore, alluvioni e si aggiunge al riscaldamento progressivo del pianeta. Strage all'americana in una scuola di Belgrado. Un tredicenne entra in classe con una pistola e spara contro alcuni compagni di classe. Il bilancio finale di otto ragazzi uccisi e con loro anche uccisa una guardia giurata. Sette feriti. Secondo il capo della polizia l'attacco era pianificato da diverse settimane. Il giovanissimo killer non può essere arrestato perché minore di 14 anni sarà ricoverato in una clinica psichiatrica. Per gli agenti sapeva a chi sparare. Il massacro richiama ovviamente alle memoria tante storie che abbiamo raccontato in questi anni provenienti da scuole e licei statunitense. Con un'operazione partita all'alba e un imponente di spiegamento di forze in tutta Europa sono state operate perquisizioni fermi e arresti di esponenti dell'Andrangheta. L'azione è iniziata dal Belgio ma si è radiata anche in Italia, Francia, Germania, Portogallo, Romania e Spagna. Sono stati impiegati migliaia di agenti e a quanto pare sono stati stroncati alcuni terminali dell'organizzazione criminale soprattutto per quanto riguarda lo smistamento del traffico di droga dal Sud America. Buonasera, molte notizie ma ovviamente quella destinata a essere non soltanto per questa sera al centro dell'attenzione e della prensione di tutti è quello che è successo nella notte, nel cielo sopra il Cremlino che improvvisamente è stato ulteriormente illuminato, quella zona ovviamente illuminata dalla presenza di un elemento luminoso che poi ha preso fuoco ed è esploso. Era un drone, probabilmente è stato appunto distrutto dalla, chiamiamola, dalla contraerea russa, dal dispositivo di difesa del palazzo più importante di tutta la Russia. Volevano colpire Putin? Era un atto dimostrativo? Chi l'ha compiuto? Da qui in poi ci sono solo punti interrogativi. Sicuramente l'atto, l'episodio di per sé è importante e gravissimo. Sulla piazza rossa nella notte di Mosca si lavora per allestire le tribune per la grande parata del 9 maggio. Sulla cupola del Cremlino sembrano esserci due persone, nel cielo qualcosa si muove, punta all'asta della bandiera, si schianta tra le fiamme, un drone. Per i russi non ci sono dubbi, l'Ucraina ha cercato ancora una volta di uccidere Putin che, tra l'altro, si trovava a Novogord. Del resto, nei mesi scorsi, due droni erano stati ritrovati nelle foreste attorno alla capitale. Non ci resta che eliminare fisicamente Zialeschi, è stata la minaccia di Medvedev. Distruggeremo il regime terrorista di Kiev, col quale non possono esserci negoziati il messaggio di Volodym, presidente della Duma, la Camera Bassa russa. Se col commento del consigliere presidenziale ucraino Podoliak, movimenti di veicoli sui ciali di Mosca, indicano una sola cosa, è al lavoro la resistenza locale. Quella che sembra essere molto attiva in questi giorni, con i deragliamenti dei treni nella regione di Priansk e gli attentati ai tralicci. Zialeschi, in visita a Helsinki, ha negato ogni irresponsabilità. Non ci interessa uccidere Putin, ma consegnarlo alla giustizia. Noi non attacchiamo la Russia, non abbiamo armi in grado di farlo, combattiamo sul nostro territorio per liberarlo. Anche Washington è cauta, semplicemente non sappiamo cosa sia accaduto, ha detto il segretario di Stato Blinken. Probabilmente la verità non si saprà mai e non manca il sospetto di una false flag, un'azione messa in scena per attivare una risposta durissima. Sembra strano, infatti, che sia possibile far arrivare un drone fino al cuore di Mosca, quando sui tetti dei palazzi del potere sono stati installati, ben visibili, sistemi antiaereo Pantsir. E nella notte c'è stato un altro attacco ad un deposito di carburante a Taman, nella regione di Krasnodar, collegata alla Crimea dal ponte di Kerch. Il tutto mentre continuavano i bombardamenti su Kersonne, zone limitrofe, dove 18 persone sono morte. La città dovrà osservare uno stretto coprifuoco dal 5 all'8 maggio. Per il capo dei mercenari Wagner, Prigojin, tutte queste azioni, anche in territorio russo, sono il segnale che la tanto annunciata controoffensiva Ucraina è già iniziata. Mentre a Roma continua a muoversi qualcosa, oggi il metropolita Antoni e del patriarcato di Mosca era all'udienza generale in piazza San Pietro. Il Papa lo ha nominato, tornando da Sofia, definendolo uno dei suoi contatti migliori a Mosca. Per il segretario di Stato Vaticano la sua presenza non è però collegata alla missione di pace della Santa Sede. La missione, ha garantito Parolin, si farà anche se Mosca e Kiev hanno detto di non saperne nulla. Questo è tutto quello che succede in una giornata che evidentemente segnerà la storia della guerra iniziata il 24 febbraio dell'anno scorso. Prima di venire alle notizie sul maltempo gravissimo. In Emilia Romagna una notizia di ora. La Federal Reserve Americana ha aumentato il decimo aumento consecutivo, i tassi di interesse dello 0,25%. L'inflazione, ha spiegato la Fed, resta alta. Siamo molto attenti alle sue conseguenze. E vi dicevo allora del maltempo in Emilia Romagna. Vediamo. Danzano gli alberi nel letto dell'amone sospinti dalla piena. Stamattina, prima dell'alba a Faenza, il fiume ha saltato l'argine e ha lagato la zona alle spalle del vecchio borgo, che adesso sembra una piccola Venezia ma senza romanticismo. È qui l'epicentro di questa alluvione fuori stagione, anche se non ci sono i morti che ci sono stati da altre parti. Un anziano travolto da una frana in una casa di campagna fontanelice verso l'Appennino e un altro ottuagenario inghiottito dalla piena del segno a Castel Bolognese su una strada transennata. I fiumi si sono ingrossati in poche ore. L'onda stralipata a Faenza ha superato i due metri d'altezza, si capisce guardando le macchine seppellite dall'acqua e certi portoni. Non era mai successo così prima ed è successo dopo mesi e mesi di secca. Più pioggia in un giorno che in quattro mesi. La signora Marta dormiva nella sua casa ai piani bassi di via D'Azeglio che adesso è completamente sommersa. Le hanno bussato i vicini, forza alzati e vieni su, qui anneghiamo tutti. È dalle quattro che ci hanno svegliato e poi i carabinieri e poi dalle quattro in poi è stata tutta una crescita continua, alle cinque e mezza hanno rotto i tombini quindi si ha lagato il piano interrato, io abito al primo piano e l'acqua è arrivata sul piano. Sì, sì, io te l'ho dalle terrazze, dalle finestre, il garage è circa un metro e ottanta d'acqua, tutto. I vigili del fuoco girano col gommone da rafting fra gli isolati di via Ragazzini. Nelle case c'è il gas ma non c'è luce. Stamattina sembrava che non se ne volesse andare nessuno ma adesso dopo più di dodici ore dall'inondazione dalle case si sentono le voci di quelli che chiamano. Portateci al sicuro, all'asciutto. Ci sono ancora alcune decine di persone da evacuare e la situazione è sotto controllo, l'acqua sta defluendo abbastanza velocemente. Ci sono stati problemi di acqua qui ma fino a questo livello direi di no. Gli sfollati sono sui 400 ma il prefetto di Ravenna avverte che potrebbero diventare persino 5.000, numero difficile da quantificare dicono le autorità. Passata l'emergenza dovranno fronteggiare le polemiche sul mancato preallarme. È un'ondata di maltempo che non ha precedenti storici, commentano il governatore Bonaccini e i sindaci. Non è mai successo nella storia che da quando si regolamenta, si studia nei livelli di questo fiume, è mai raggiunto quei livelli. Quanto era salito? Di 10 metri. Il peggio stasera sembra passato. Previsto bel tempo, domani no temporali, le scuole riapriranno. Ma la protezione civile ha annunciato allerta rossa per rischio idrogeologico. le piane dei fiumi in molte zone dell'Emilia-Romagna. Insomma, non è ancora finita. E al di là degli episodi, al di là dei fatti, restano le inquietudini sul cambiamento climatico. Se ne parla, a volte se ne parla fin troppo in maniera approssimativa. Quello che non è approssimativo è l'allarme che è stato lanciato oggi dalla più alta autorità climatica mondiale, ovvero il capo della speciale branca delle Nazioni Unite sulla meteorologia, che ha detto che quest'anno ci sarà anche l'effetto, che ben si conosce, del ninho. Potrebbe esserci l'estate più rovente di sempre. Arriva il ninho. Il mondo si prepari a temperature record. A lanciare l'allarme è l'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite, il cui segretario generale, il finlandese Petteri Thalas, preannuncia un nuovo picco nel riscaldamento globale. Da quando ci sono rilevazioni scientifiche, l'anno più caldo è stato il 2016, per effetto combinato di un ninho molto potente e del suo riscaldamento terrestre alimentato da concentrazioni di gas serra in costante aumento, sostengono gli esperti da Ginevra, dove l'organizzazione, che comprende 193 tra stati e territori, ha il suo quartier generale. Ma tutti gli otto anni, dal 2015 al 2022, hanno registrato temperature molto elevate. In questo 2023 la possibilità di battere i record precedenti, avverte Thalas, saranno al 60% da maggio a luglio, al 70% tra giugno ed agosto e all'80% tra luglio e settembre. Il ninho è il fenomeno climatico di riscaldamento delle acque del Pacifico tropicale centrale e orientale fino alle coste di Peru ed Ecuador, che si ripete con intervalli tra i 2 e i 7 anni, dura da 9 a 12 mesi e porta ondate di calore, siccità e alluvioni in diverse aree del globo terrestre. In spagnolo, il ninho significa bambino e in particolare bambin Gesù. Non a caso, gli episodi più intensi del fenomeno si sviluppano intorno al periodo natalizio, tra dicembre e gennaio. Quando dura a lungo, il ninho causa il trasferimento dalle profondità oceaniche del plankton, alterando l'equilibrio faunistico marino, al punto da stravolgere pesantemente l'economia di intere popolazioni, come quelle sudamericane di Ecuador, Peru e Cile, paesi in cui la pesca ha ancora un ruolo cruciale. Porta piogge su alcune zone del Sud America, nel sud degli Stati Uniti, nel corno d'Africa, nell'Asia centrale e siccità su Australia, Indonesia e parti dell'Asia meridionale. In estate, il ninho alimenta gli uragani nel Pacifico Centro-Orientale e li ostacola sull'Atlantico. Al contrario del ninho, la nina raffredda la stessa area del Pacifico Tropicale Centrale-Orientale e si è ripetuta costantemente negli ultimi tre anni. C'è una storia terrificante che arriva dalla Serbia. È una di quelle storie che purtroppo ci siamo abituati a raccontare dagli Stati Uniti. Ma vedete cosa è successo a Belgrado. Lo stile è quello americano. Un ragazzo armato si presenta a scuola e comincia a sparare su insegnanti e compagni di classe fino a che la polizia non lo ferma. Questa volta però il massacro è avvenuto in Serbia ed il killer, come vedete dalle immagini, non è stato ucciso a sua volta dalle forze dell'ordine ma ha portato via in manette ed ha volto coperto. Il protagonista è poco più che un bambino. Un tredicenne di nome Costa, il cognome è Kecmanovic. Alle 8 e 40, come tutti i giorni, è arrivata all'istituto Vladislav Rivnikar dove era conosciuto per essere un tipo tranquillo ed uno studente diligente. Forse, dicono le autorità, bullizzato da alcuni compagni. Costa ha tirato fuori un'arma presa in casa al padre ed ha cominciato a sparare prima la guardia giurata uccidendola, poi è entrato in una classe di storia a quanto pare non avrebbe mirato a caso ma ha su obiettivi precisi ed ha smesso solo quando ha finito i nomi che aveva su di una lista. Il bilancio finale di 9 morti, 8 ragazzi e la guardia e 7 feriti, 6 compagni di scuola ed un insegnante. Kecmanovic, secondo il capo della polizia della capitale, Vaseline Milic aveva pianificato tutto da almeno un mese. Era in possesso di una pianta della scuola ed un elenco di vittime una volta completato il compito è stato lui stesso a chiamare la polizia informandola del massacro, del quale però non ha voluto chiarire le motivazioni. In serata le forze dell'ordine hanno messo le manette anche al padre di Costa a quanto pare perché l'adolescente aveva facile accesso alla cassetta di sicurezza di cui conosceva la combinazione nella quale il genitore teneva le armi. È da lì che avrebbe preso una pistola a 9 mm ed una di calibro più piccolo. L'adolescente aveva anche alcune molotov che non ha usato e sembrerebbe che la passione delle armi arrivasse proprio dal padre il quale era solito portarlo nonostante la giovane età al poligono di tiro. A metà pomeriggio anche la madre è stata arrestata ma non si sa con quale accusa. Molteplici messaggi di cordoglio da parte delle autorità europee la Serbia ha indetto tre giorni di lutto ed ora si interroga sull'intensificarsi di episodi di violenza e intolleranza nelle sue scuole. La Francia che protesta contro la riforma delle pensioni di Macron subisce un'altra sconfitta istituzionale. La Corte Costituzionale francese infatti ha detto no anche alla seconda richiesta di un referendum. Niente da fare, la riforma delle pensioni prosegue per il momento il suo iter con i ministeri che stanno già preparando la normativa per l'entrata in vigore. La Corte Costituzionale francese ha infatti respinto per la seconda volta la richiesta avanzata dalla sinistra di riportare l'età pensionabile a 62 anni perché non soddisfa i criteri richiesti cioè non riguarda una riforma relativa alla politica sociale. La speranza di invertire il percorso della riforma resta ora appesa al prossimo 8 giugno quando una proposta di legge di abrogazione sarà presentata in Parlamento dal gruppo centrista Agliotto. La decisione della Corte arriva dopo un primo maggio caldissimo di mobilitazioni e scontri di piazze piene così come di centinaia e centinaia di fermi e altrettanti poliziotti feriti. Una giornata definita dal ministro dell'interno Darmanin di rara violenza. Vedremo se il più grande sindacato francese, l'estrema sinistra di Jean-Luc Mélenchon che hanno continuato fino ad oggi a chiedere il ritiro della legge abbandoneranno il braccio di ferro con il governo cosa che ha già parzialmente fatto il resto dell'opposizione che sta guardando piuttosto a obiettivi più raggiungibili come un miglioramento delle norme o un'azione incisiva sui decreti attuativi. D'altra parte il botta risposta tra Mélenchon e la prima ministra ha continuato fino a poche ore fa. Il leader della sinistra accusa Elisabeth Borne di una campagna di odio ma da mesi anche i sindacati accusano il governo di aver provocato una grave crisi democratica dopo il ricorso all'articolo 49,3 della Costituzione che ha permesso di scavalcare il Parlamento per approvare la riforma. Una riforma che oltre a far salire l'attuale età pensionabile di due anni toglie i regimi speciali che tengono conto del lavoro svolto. Lo sguardo quindi ora è all'8 giugno, due giorni prima è fissata un'altra giornata di mobilitazione la 14esima dal 19 gennaio. In quell'occasione i sindacati uniti hanno chiesto di essere ascoltati dai deputati che esamineranno due giorni dopo il disegno di legge. In Italia come si sa si parla ancora sotto il cielo della politica della questione del decreto primo maggio, il cuneo fiscale, gli aumenti, quanto sono gli aumenti dovuti in realtà in senso reale dall'inflazione gli aumenti nelle bollette energetiche perché questo si approssima secondo quanto dice oggi Arera l'autorità a ciò preposta e in realtà sotto dietro c'è anche una battaglia di poteri forte che stasera un po' vi raccontiamo perché attorno a Enel dove da parte del governo si sono fatte le designazioni che si sanno però la partita è ancora a quanto pare in piedi. Sembrava un capitolo chiuso quello delle nomine delle grandi aziende pubbliche è un braccio di ferro tra alleati finito con un compromesso e non con Meloni Pigliatutto e invece un distillato di notizie distribuito nelle ultime settimane soprattutto sulle pagine finanziarie ha fatto capire che per la più grande delle partecipate, Enel la battaglia ha una coda imbarazzante per la Premier e per il Ministero dell'Economia. Per la prima volta le scelte del governo, amministratore delegato Flavio Cattani o Presidente Paolo Scaroni, entrambi manager di grande esperienza e potere voluti rispettivamente da Salvini e Berlusconi attraverso Gianni Letta sono state messe in discussione dalla presentazione di una lista alternativa a quella presentata da Via 20 Settembre con un candidato alla Presidenza, il banchiere Marco Mazzucchelli gradito ai fondi e alternativo a Scaroni accusato di non essere indipendente. La mossa dava corpo a malumori dei mercati internazionali soprattutto anglosassoni, riflesso anche di ragioni geopolitiche Scaroni alla testa dell'ENI dal 2005 al 2014 è stato l'artefice dei maggiori accordi energetici con la Russia e con Gazprom anche negli anni, come fa notare oggi un appello di radicali italiani delle guerre di Putin in Georgia e Crimea. Nell'ultima settimana si sono moltiplicati i segnali dello scontro di potere in corso e della sua portata in un contesto internazionale in cui il governo di destra-centro è sotto osservazione per tante altre ragioni il debito con i dubbi di Goldman Sachs, il PNRR ci sono anche i sospetti sul ruolo nella formazione della lista dei fondi denominata Covalis dell'amministratore delegato uscente Francesco Starace rafforzati dall'intervista che era lasciato ieri al Sole 24 Ore nella quale, dopo aver smentito di voler tornare alla testa dell'ENEL si diceva tuttavia genericamente disponibile a dare una mano a guidare una transizione, un passaggio di consegne per un tempo limitato una nuova smentita in queste ore non ha tuttavia dissipato i dubbi soprattutto dei nemici, mentre il Corriere dà notizia di un parere di uno dei più potenti avvocati d'affari romani, Andrea Zoppini che certifica l'indipendenza di Scaroni perché così si combatte nelle aziende quotate il 10 maggio, l'Assemblea degli Azionisti deciderà il finale di partita a suggestioni che il raggruppo azionisti di peso non ha sposato la lista alternativa i numeri per ora dicono che sarà difficile rovesciare le decisioni del governo i fondi ribelli sperano di riuscire comunque ad eleggere almeno Mazzucchelli in CDA resta il segnale, forte e mai verificatosi prima poco stemperato dalla nuova direzione generale del Tesoro fanno notare voci dell'opposizione Giorgetti, oltre che Meloni, dovranno tenerne conto Le condizioni di salute di Silvio Berlusconi restano in un quadro clinico che scrivono il professor Alberto Zangrillo medico personale, come si sa, dell'ex premier e l'altro esperto professore che ha in cura per l'aspetto riguardante come sappiamo la leucemia l'ex presidente del Consiglio restano, dicevo, le condizioni in un quadro clinico stabile e confortante questo però non vuol dire che Berlusconi stia per uscire stia per essere dimesso dal San Raffaele come ieri alcune voci sembravano presentare come possibile e addirittura imminente anzi, per quello che si capisce proprio dalla nota quello che c'è tra le righe della nota il ricovero dovrebbe continuare anche nei prossimi giorni sicuramente per tutta la settimana e quindi potrebbe esserci un saluto ma dalla clinica, una registrazione probabilmente forse una registrazione audio o una telefonata per quella convention che c'è venerdì e sabato di Forza Italia proprio a Milano vi dobbiamo parlare di un'altra vicenda di una grande azione delle polizie di tanti paesi europei contro l'andrangheta così l'andrangheta inonda di droga i nostri paesi un fiume di cocaina decine di tonnellate di polvere bianca dal Sud America via nave direttamente in Europa nascosta in container arrivati nei porti di Anversa e Gioia Tauro merce di scambio non solo soldi ma anche armi da guerra pistole Kalashnikov morenta corrente per gruppi criminali brasiliani e colombiani in grado di assicurare alla mafia della Locride l'afflusso costante di droga il Megablitz è scattato all'alba di questa mattina 108 arresti solo in Italia e altre decine in Germania dove sono stati impiegati più di 4000 agenti ma anche in Spagna Portogallo Francia Romania Slovenia e Belgio dove l'inchiesta è partita molti mesi è dietro i capi di accusa sono associazione mafiosa concorso esterno e traffico internazionale di droga con l'aggravante della transnazionalità e dell'ingente quantità ma anche traffico di armi riciclaggio favoreggiamento trasferimento fraudolento e procurata in osservanza di pena quello che la direzione antimafia di Reggio Calabria e molte altre procure europee sono riuscite a documentare un giro vorticoso di soldi e stupefacenti l'epicentro e ancora una volta la Spromonte il paese di Sannuca e le famiglie dell'Andrangheta della Locride capaci di coltivare rapporti diretti con i clan della Colombia ma anche dell'Albania e del Brasile il paese in cui nel maggio del 2021 venne arrestato e poi riportato in Italia Rocco Morabito detto Tamunga fuggito due anni prima dal carcere di Montevideo a permettere la sua lunga latitanza la copertura dei gruppi criminali sudamericani grazie ai quali arrivavano in Calabria tonnellate di droga almeno 23.000 kg di cocaina sequestrati 6.000 sarebbero stati movimentati in meno di due anni poco più della metà è stato fermato in Italia il resto è finito nei depositi dell'Andrangheta capace di reinvestire le somme in attività all'apparenza lecite fin dentro il cuore della vita e dell'economia europea bar, gelaterie ristoranti nelle zone della Movida in Italia e Portogallo ma la capacità della criminalità organizzata calabrese di diversificare i settori in cui far girare i soldi per ripulirli era impressionante in Germania stamattina sono stati sequestrati i beni per 25 milioni di euro orologi appartamenti ma anche laghetti di pesca sportive in Turinja parcheggi supermercati autolavaggi nelle ricche Assia e bassa Sassonia l'ultima pagina del giornale è dedicata a un lutto nel mondo del cinema avete un ultimo desiderio potrei fare una telefonata pronto Mario come stai? io bene potrà anche apparire anomalo partire da uno spot per ricordare un regista appena scomparso a 68 anni non troppo però o forse per nulla considerando che Alessandro Dalatri proprio con la pubblicità aveva conquistato il cuore e il sorriso degli italiani e non solo per un raggio d'azione o forse meglio di persuasione infinitamente più vasto di quello del cinema ma perché era una dimensione quella rivelatasi la più congeniale per lui che in quel mondo d'autore impegnato si sarebbe detto una volta non c'era mai sentito a proprio agio mi piace sempre giocare non è un caso che poi tutte le operazioni che ho fatto fino adesso le ho fatte sempre sotto il punto di vista del divertimento sarà stato anche per merito come diceva lui stesso della mamma nata a Sansepolcro non lontano d'Arezzo ma Dalatri pur romano di nascita alla centralità aveva sempre preferito la provincia una provincia dove credeva di poter raccontare al meglio con eleganza semplicità e quella modestia che gli era propria ciò che lo aveva sempre interessato di più i rapporti umani centrali perfino in malavitose serie tv stile i bastardi di Pizzo Falcone benvenuto Vittorio onoratissimo Pitarini e Zaire piacere fin dal suo esordio che detto tra parentesi fu anche l'esordio per la giovane Sabrina Ferilli del 91 americano rosso una storia di amabile vitellonismo ambientata negli anni 30 in un veneto di periferia Dalatri sempre da quelle parti ha dimostrato di voler guardare con personaggi preferibilmente suoi coitanei da Fabrizio Bentivoglio a Fabio Volo da Kim Rossi Stuart Ambro Angiolini il più delle volte timidi e ironici nei confronti di una realtà piena di equivoci e incertezze verso i quali era sempre pronta a mostrare una partecipe comprensione quasi fosse per lui quello del cinema un mondo intimo in cui potersi ritrovare l'esatto opposto di quello della pubblicità famoso per le sue supposte verità per le sue esagerazioni per le sue affermazioni ma anche per le opportunità che poteva concedere non solo economiche anche narrative per la possibilità cioè che gli offriva di divertirsi divertendo anche noi Ah bene allora vengo su Dopo di noi a otto e mezzo Lily Gruber ospita Mariolina Sattanino Italo Bocchino Stefano Massini e Lucio Caracciolo poi a mercoledì c'è Atlantide e stasera Andrea Purgatori ci porta a ricordare quella che è la catena terrificante dei delitti del mostro di Firenze ci fermiamo prima dei numeri della borsa quelli del calcio perché sono giocate quattro partite questo pomeriggio della sest'ultima giornata del campionato Juventus Lecce 2 a 1 Atalanta Spezia 3 a 2 a Genova Torino 2 Sabdoria 0 Salernitana Fiorentina 3 a 3 le altre partite tra stasera e domani sera allora Milano ha chiuso con un più 0 e 77 per 100 mentre in questo momento a Wall Street gli indici sono poco mossi più 0,10 il Dow Jones più 0,74 il Nasdaq è tutto Gruber Purgatori ci vediamo domani sera buonasera grazie a tutti